E' successo che anche questa notte siamo stati svegliati dall'allarme, diciamo che non era nemmeno una cosa molto credibile, però purtroppo era proprio un'altra invasione di campo. E' solo a due settimane di distanza dalla precedente assalto che i ladri sono tornati a visitare questa tabaccheria che si trova nella cuore del centro storico di Castiglion, Fiorentino. Ed è stata molta preoccupazione e rabbia. E vi sentite presi di mira? Ovviamente sì. La banda è entrata in azione questa notte attorno alle 2 quando è scattato l'allarme del locale. Hanno piazzato il piede di porco qui, hanno fatto leva sulla porta e poi dopo. Qui hanno sbranato tutta questa parte qui, questa, quella giù dove ci sono le prese della serratura. Una volta dentro i banditi si sono diretti verso la cassa svuotandola dei soldi contenuti ed hanno poi messo le mani su alcune stecche di sigarette. Infine la fuga nell'oscurità. Alcuni testimoni avrebbero infatti notato dei malviventi scappare. I ladri indossavano delle felpe tirate sulla testa. Tra loro ci sarebbe anche una donna. Qui si sono presentate ancora due o tre persone come la volta scorsa. E che dispiace dirlo ma sono ancora in grado di poter nuocere anche ad altri. Una amara sorpresa per i titolari già colpiti all'alba dello scorso 22 novembre. In quel caso i banditi erano riusciti a darsi alla fuga con un bottino da qualche migliaio di euro. Ma come andiamo avanti? Andiamo avanti che cercheremo di mettere delle protezioni che finora non avevamo messo in essere perché ci sentivamo abbastanza tutelati dal centro storico, da quello che è un guscio. Sull'episodio adesso indagano i carabinieri, al vaglio degli inquirenti, anche le immagini di video sorveglianza del negozio e del comune per cercare così di risalire all'identità degli autori del furto.